Paghi, sei stanco? Sei stanco? Ti sei seduto È perché sono troppo alto Eh, sei alto Mi ha già visto pure un orologio Questi marocchini andavano pazzi per questo orologio Sì, se lo volevano comprare Ciao a tutti Eccoci qua, Paghi, che ci cucini oggi di buono? Una cosa semplice E salutare Semplice, salutare e saporita Perché le ragazze ci chiedono sempre Ci volete fare qualche ricetta leggera Però qualche modo alternativo di mangiare le verdure Questa è una ricetta che noi facciamo sempre Veramente sempre, spessissimo E che cosa sono? I noci al gratin Sì, si, praticamente si fanno nel forno Sono semplicissimi da fare, veloci Dai, facciamo, dai Che dobbiamo fare? Allora, prima di tutto spruzzate un tegame antiaderente Ah, abbiamo anche lo spruzzino, ragazze Che funziona? Sì, forse sì Sì, sì Ma mi sposto Mi mettene poca questa È olio? Sì, sì, è olio Quindi è olio extravergine bio Che sta qua dentro Mi sposto perché è olio Allora non mi voglio sporcare Va bene Ma è che ce ne vuole poco Ok Poi ci stanno i finocchi Eccoli qua Che questi sono quelli del nostro articello, è vero? Sì E le andiamo a tagliare A fette Sì A fette grosse Guardate, io ce ne ho tagliate 100 Ah, ecco Quindi perfetto Più di un centimetro Quasi due centimetri Ok, bello spesso Fate tante fette E le mettete tutte allineate Il tegam Uno Cacca sotto e in coppia Uno così E' andata così Vuole che prendere meno spazio Perfetto Quindi praticamente Se ne vogliamo fare di più Possiamo anche prendere due pirofile Giusto? Giusto Giusto Ok Quando ce ne vanno in una pirofile? No, non bisogna sovrappurli No, no, no Assolutamente non Basta Ah, ecco qua Poi si fa un'altra scuzione Da leggerla Da sopra Poco Voi lo potete mettere con Un filino col dietro Col dito Lo stendete col dito Un filino lo stendete col dito Perché? In cucina si usano le mani Vabbè Se proprio siete schifittosi Vi potete mettere i guanti No, come facciamo? Un po' di sale Sale rosa Sì Vabbè, noi mettiamo sale rosa Ma può mettere pure il sale Anche ci stanno No, non c'è Due le sale rosa Ok Un po' di pepe Un po' di pepe scivola Che veramente dà un buonissimo sapore Pane grattugiato Ah, pane grattugiato sempre Pino prima formaggio Poi pane grattugiato Ah, ecco qua Mamma mia Poi sono così buoni A me piacciono tantissimo Formaggio parmigiano romano Come volete Un po' di parmigiano Chi è vegano non lo mette il parmigiano Certo Vabbè, ma sono buoni comunque Sono buoni, perfetto Sono meno grassi Vabbè, ma un po' di parmigiano che fa? No, vabbè, se uno è vegano è vegano Ah, certo Diciamo che a volte l'ha finito il parmigiano Non l'ho fatto senza E erano buoni comunque Quindi Il pane grattugiato è fare quella Ah, il pane grattugiato Quella grattinatura Sempre pane grattugiato integrale Eh, questo è pane grattugiato Ehm Ehm In panatura Di riso integrale Wow Non è pane Fantastico Quindi praticamente Farina di riso integrale Eh, più doppia Quindi qua sopra Un bel giro Che quello viene bello croccante Adesso si deve preriscaldare il forno E si devono infornare No, senza Senza preriscaldarlo Ah, anche direttamente Ci metti direttamente in forno Andiamo infornare E' cannottino in mio forno Ah, ah, ah Quindi andiamo Andiamo Io mi alzo Ah, fai vedere che... Tutta la mia altezza Ah, ah, ah No, fammi vedere che cammina Non so se hai scendito la ciuma No, no, niente ciuma Ah, 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 ah Abbiamo acceso il forno Il fornettino Il nostro fornettino Ok Sì, una mezz'oretta Va bene, allora ci vediamo dopo Ok Ciao Pachi Ciao Saluta a tutte le tue fan Ciao Ciao Ma tra poco ci vediamo Non mi vettete a piante Ah, ah, ah Ah, fra poco Ciao, ciao Sono fatti queste bellissime Finocchi Bellissimi finocchi Guardate qua Qua perché c'è visto sto zecchino Guardate qua E perché metto meno sale per me Ah, perché tu mangi senza sale Ecco qua S'ha messo sto zecchino Per riconoscerlo Guardate, guardate Guardate come sono carini Vengono così Tutti croccantini Sono troppo troppo buoni Io li adoro veramente Sono buonissimi Come sono Pachi? Eh, fammi avrei Dai, speri Sono buona A me mi piacciono assai Buonissimi Speriamo che vi sia piaciuto questo video Mi rendiamo un bacio grande Iscrivetevi al nostro canale Ciao Ciao Bacio a tutte le tue fan Ciao Con lo schiocco Ciao 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 Grazie a tutti.